Rimaniamo ancora ad Alcamo, prestiti con tassi di interesse oltre il 200%, un arresto si tratta del settantenne Diego Milotta, la denuncia di una donna ha fatto scattare l'indagine, trovato un foglio con la contabilità dello strozzino, a chiarirci ogni dinamica è stato Luca De Vito, comandante della compagnia Carabinieri di Alcamo. Ascoltiamo. Il provvedimento di fatto è frutto di una denuncia presentata verso i nostri uffici dalla sorella di una delle vittime, che si è presentata qui disperata, continuamente minacciato. I nostri accertamenti hanno permesso da subito di salire l'identità di Milotta e quindi di accertare che lo stesso aveva elargito un prestito nei suoi confronti, chiedendo però la restituzione di una somma con addirittura il 170% di interessi. Abbiamo accertato che questa vittima alcamese non era l'unica, se ne aggiungeva un'altra di sesso femminile, questa volta originaria di Valderice, alla quale addirittura erano stati richiesti interessi di usurai del 200%. Il modus operandi dell'usurai era praticamente in entrambi i casi lo stesso, individuava le vittime in base al loro bisogno economico e si offriva di elargire loro un prestito, chiedendo poi la restituzione in piccole rate, che però si prolungavano nel tempo andando poi di fatto a richiedere una somma nettamente superiore rispetto a quella inizialmente prestata. A garanzia del pagamento il Milotta usava richiedere alle vittime degli assegni in bianco già firmati e in un caso anche il libretto postale elettronico comprensivo di PIN. Comandante, in un periodo del genere di pandemia i reati del genere hanno un peso maggiore? Sicuramente le difficoltà economiche che caratterizzano questo momento di Covid incidono molto su questo tipo di reati e soprattutto sulle vittime che, soprattutto in questi due casi specifici, hanno trovato appunto un riferimento in questo usuraio che poi ha approfittato del loro stato di bisogno. Il suggerimento è quello di trovare in voi, per come lo è sempre stato, un nebbavardo sicuro, quindi denunciare e non avere paura. È ovvio che bisogna per forza di cose fare riferimento a noi forze dell'ordine, anche perché il Milotta non si fermava soltanto a chiedere interessi su Rai, ma anche addirittura a minacciare e percuotere le vittime. Questo è il motivo per cui gli viene contestata anche l'estorsione. La pandemia è la vostra presenza che diventa maggiormente fondamentale. Il nostro impegno è quotidiano per quanto riguarda i servizi connessi alla prevenzione e repressione di tutta la normativa nell'entri Covid. Il nostro invito ovviamente è quello di attenersi sempre e comunque alle normative, anche perché è necessario un impegno da parte di tutti. Ecco.